Lo sport oltre le sbarre, Whisper riqualifica un cortile del carcere femminile. Ancora arresti per droga, 35 anni albanese trovato in casa con seietti di cocaina. Baby gang a Villa San Martino, insulti, schiamazzi e molesti ai residenti. Bicipolitana a Singhiozzo, c'è un tratto lungo le foglie chiuso da quasi tre anni. Domani partono i saldi estivi nelle Marche e dureranno fino al primo settembre. Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News. Telegiornale di oggi, venerdì 5 luglio, che apriamo con immagini che abbiamo girato in un luogo opprimente, al quale però viene regalato un piccolo grande gesto. Parliamo della sezione delle carcere femminile di Pesaro, che ha ricevuto una particolare donazione da parte della WISP. Vediamo. Lo sport come veicolo di socializzazione, di integrazione, di speranza. Va in questo senso l'intervento completato dalla WISP nella casa circondariale di Pesaro, nel carcere di Villa Fastigi, che è l'unica struttura penitenziaria delle Marche, che ospita anche una sezione detentiva femminile per 20 detenute. Tante ne sono ospitate in questo momento nel carcere pesarese. 20 detenute che da questo momento hanno una speranza in più, quella di un intervento realizzato da WISP, che in uno spazio che era soltanto un'area passeggio in cemento, hanno portato alla realizzazione di un cortile per la pratica sportiva, con una pavimentazione adeguata a praticare ginnastica e pallavolo. Qui a Villa Fastigi a Pesaro la sezione femminile e la sezione maschile ha appunto un campo a disposizione. La sezione femminile, come avete potuto vedere, aveva solo questo cortile. E quindi dopo tanti anni di ginnastica ci siamo impuntati. Non è stato facile recuperare risorse e tutto, ma era doveroso che restituissimo a queste ragazze uno spazio dove fare socializzazione. La direttrice prima ci diceva, appena abbiamo montato il pavimento, hanno chiesto se lo possiamo pulire, lo possiamo lavare, quindi è stato importante. Attraverso questa donazione passa un messaggio fortissimo di prendersi cura della persona e quindi di far leva sulla dimensione sportiva, dell'attività sportiva. Considerate che anche l'ordinamento prevede che la permanenza all'aria aperta, per cui questo locale progettato, sia destinata principalmente all'esercizio dell'attività fisica. Quindi attraverso questa donazione si veicola un messaggio di potenziamento della pratica sportiva in carcere, laddove si può comprendere quanto appunto la detenzione porta anche inevitabilmente un prolungato stato di inerzia, perché non ci sono sempre, o comunque in tutti gli istituti, quelle attività palestre. Non sarà mai come essere appunto nella società libera, per cui ecco già l'ordinamento si avvedeva di questa particolarità e oggi lo vediamo sotto i nostri occhi quanto appunto anche soltanto una piccola donazione, che piccola però non è, qua dentro in questa dimensione può fare appunto per rievocare il concetto di persona, di sport e di donna, non perché detenuta ma perché donna. E lo sport deve essere un progetto di vita anche per i cittadini che si trovano temporaneamente a vivere all'interno di un istituto penitenziario. E poi lo sport come diritto, lo sport come strumento di socialità, ma soprattutto lo sport ormai riconosciuto dalla Costituzione, riconosciuto nel suo valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico delle persone. L'intervento è totalmente a carico della WISP che ha incontrato la buona volontà di uno dei membri del suo consiglio, ovvero Andrea Farisello, e della sua ditta edile la Far Costruzioni. Abbiamo bonificato le pareti, una questa alle mie spalle e un'altra sul laterale, dove abbiamo tolto completamente tutta la vernice, tutto il cemento che era marorato, dovevamo solo fare piccole ripristini, poi abbiamo deciso di rasarla tutta, anche se il lavoro era concentrato in poco tempo, abbiamo dovuto fare un po' alla meglio. E successivamente abbiamo posato il pavimento in gomma riciclata per l'utilizzo del campo, è un pavimento che viene utilizzato anche per i campi dei bambini, quindi antiurto e quant'altro. Dovremmo esatto posizionare ancora la rete da pallavolo e poi una vela ad ombreggiare un po' il cortile, perché adesso si sta abbastanza bene, ma poi più tardi è completamente al sole. Un gesto importante che si inserisce in un contesto quanto mai complesso, quello del sovraffollamento delle carceri, non fa difetto la situazione pesarese, i numeri attuali dicono di 250 detenuti ospitati attualmente nel carcere di Villa Fastigi, la maggior parte sono uomini, sono soltanto 20 le donne ospitate, dicevamo 250 detenuti su una capacità detentiva regolamentare di 153 detenuti, dunque numeri quanto mai sovradimensionati. Attualmente le donne ospitate sono 20 su una capacità di 21, ma si è toccati anche quota 29. Il report del 2023 è drammatico, su 40.000 posti circa, sono 60.000, quindi sovraffollamento per la mancanza di fondi, le condizioni precarie del carcere. E a pochi giorni dall'arresto di un 34enne nigeriano, riconosciuto come uno dei principali pusher di riferimento delle Parco Miralfiore, finisce in manette anche un soggetto che riforniva cocaina agli spacciatori impegnati sulla piazza pesarese. Si tratta di un 35enne albanese colto in flagranza di reato dai carabinieri di Pesaro. L'uomo è stato fermato per un controllo al quale è seguito una perquisizione domiciliare. Nella sua cantina nelle quartiere di Pantano gli sono stati trovati bene sei eti di cocaina per un valore stimato di 50.000 euro. Un quantitativo talmente ingente da identificarlo come uno dei grossisti di polvere bianca della zona. L'albanese ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. E c'è un problema baby gang nelle quartiere di Villa San Martino a Pesaro. Nella tarda serata di ieri ci sono state chiamate ai carabinieri da parte di residenti esasperati da episodi di moleste, schiamazzi ed insulti. E questa non è la prima volta. Suonare al citofono e poi scappare. Un po' tutti l'hanno fatto da piccoli, ma tra goliardie e maleducazione c'è differenza, soprattutto quando quest'ultima arriva al punto da intimorire i residenti di un quartiere. Parliamo di Villa San Martino a Pesaro, dove ieri notte in via Federici si è rifatta viva una baby gang. Così la definiscono i residenti, che è probabilmente la stessa passata già agli onori della cronaca martedì scorso e due settimane fa. Si tratta di quasi 20 ragazzini che girano con cappuccio e caschi, raccontano alcuni testimoni che però preferiscono rimanere anonimi e non farsi vedere per paura di ritorsioni, ma che ci aiutano a ricostruire queste ultime due settimane di terrore nel quartiere. Se sono venuti, io pensavo addirittura, ho sentito gridare, questa è una settimana fa, ma è da un po' che girano. Ho sentito gridare e pensavo addirittura che avessero litigato nel palazzo, c'è un uomo con una donna, che tu sei rimasto fuori, che avessi citofonato e che avessi sbagliato e avesse citofonato me. E niente, appena ho risposto, Roia vieni giù in maniera molto rabbiosa, che se io avevo uno stroke nella mia vita, mi prendevo un colpo. Poi sono scesi e sono scappati, come poteva capitare negli anni Ottanta quando citofonavamo noi. Ma tutta sta violenza, anche ieri lo stesso, mi ha citofonato. Io poi, non ho dato a letto, ho cercato di non avere la calma, poi mi ha citofonato a qualcun altro, ho capito che erano loro. E sono uscita di sotto, perché ho sentito gridare poi nel palazzo, adesso vengo giù, cose di questo genere. E sono venuto a cercarli un po', sono andato anche là con i miei ragazzini, ma non erano loro. Poi ho sentito verso là, gridavano e sempre, in volgarità contro le donne, si vede che non hanno paura di niente, fate citofonare in quel palazzo Ramà. Una volta l'hanno cercato di entrare, non sa che sono entrati, perché ho sentito battere il porto di sotto, però se la prendono con le donne, perché si risponde un uomo, non dico niente. Poi dopo, se una magari arriva mentre loro fanno queste cose, magari possono anche aggredire, non lo so. Continuo a citofonare dalle tre parti, nello stesso palazzo e anche negli altri. Due sabati fa, e li avevo visti anche prima, questi ragazzi all'incirca di 16-17, perché avevano anche i caschi, quindi all'incirca più o meno quelle tali. Sono venuti a suonare nell'appartamento, nel condominio di fianco al mio, e ho sentito urlare, mi sono affacciata. Più prima sentivo dei botti, quindi non so se sotto la galleria Mimosa hanno cominciato a dare le botte alle serrande. Quindi io mi sono affacciata, però non vedevo nessuno. Poi hanno cominciato a suonare i campanelli di là, la signora è scesa, loro non se l'aspettavano. Sono scappati con questi cappucci nella testa, e la signora ha detto, adesso aspettate, aspettate che chiami i vigili. E loro hanno cominciato a insultare con delle parole abbastanza pesanti, ecco. Sono tutte persone grandi, anziane, quindi hanno anche un po' paura, sinceramente, ecco. Perché involontariamente, se capita che dovessero aprire il portone, questi vengono su, non so che cosa possono fare, ecco. Cioè, sicuramente faranno danni, come già è successo l'anno scorso da palazzetti. Però, insomma, io ho sentito anche con quelle signore, che sono tutte molto grandi, e beh, cominciano a aver paura nel tenere, mi raccomando, il portone chiuso di sotto, mi raccomando, non aprita nessuno. Insomma, è una cosa anche fastidiosa, perché alle undici e mezza di notte, che ti suonano i campanelli, che cominciano a urlare, ma brutte parole, brutte, brutte. A una signora, beh, insomma. Io non so se è riconducibile alla stessa cosa. Io ho visto diverse volte macchine con le gomme bucate. Visto che si ripete, anche l'anno scorso è successo, si sta ripetendo anche quest'anno, magari un giro in più, una macchina, una pattuglia, che ne so, ogni tanto non farebbe proprio male. Erosini TV da questa mattina ha ricevuto numerose segnalazioni di forte odore e di fumo avvertito nei centri urbani di Pesaro, così come in quelli di Fano e Calcinelli. Secondo alcuni accertamenti dei Vigili delle Fuoco, si tratterebbe degli effetti delle polveri trasportate dalle 25.000 tonnellate di fieno, andate in fumo nel vasto incinno avvenuto a Montelabate nella notte fra mercoledì e giovedì. Polveri non pericolosi, in quanto il erogo non ha interessato prodotti chimici. Un altro incendio invece è avvenuto stanotte a Vallefoglia, dove alle 3 è divampato un erogo in una casa di via nazionale, generato da un cortocircuito di un'asciugatrice. L'incendio è stato circoscritto al locale di servizio, evitando così danni maggiori al resto dell'abitazione. E c'è un tratto di pista ciclabile lungo il fiume Foglia di Pesaro, che è chiuso da bene tre anni. In questo servizio cerchiamo di capire i motivi e le prospettive di questa interruzione. Sono quasi tre anni che questa ciclabile è così. L'autore del cartello è anonimo, ma il messaggio è chiaro, perché se c'è una bicipolitana che da anni è considerata un fioro all'occhiello della mobilità peserese, ci sono anche tasselli mancanti che mutilano questa mobilità da troppo tempo. È il caso del tratto di pista ciclabile sul Foglia, compreso fra via Gradare e via Spoleto. Tratto è interrotto da anni e non manca chi, a Rossini TV, segnala questo stallo che dura da tanto ed è pure destinato a durare, visto che non c'è ombra di lavoro in corso, per ripristinare l'interruzione che rende monco il tratto di ciclabile sul Foglia. Anzi, un cantiere c'è ed è quello del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume, il cui completamento diventa determinante per ripristinare anche la ciclabile in questione. Un cantiere che invade la pista e che è attualmente fermo dopo la posa del ponte in acciaio avvenuta in inverno. Nei giorni scorsi l'assessore con delega alle grandi opere Riccardo Pozzi ha annunciato un incontro con l'azienda costruttrice per richiarire i termini di ripartenza di una struttura che nel cronoprogramma iniziale doveva essere già completata, poi l'ipotesi è slittata a fine estate ed ora verosimilmente si conta di chiudere entro la fine del 2024. Mancano ancora le opere di completamento e il raccordo con la ciclabile, sulla quale si proverà a consentire una riapertura entro l'estate, almeno temporanea. Intanto, all'ingresso del sentiero, l'adautosì del Foglia che parte dal Ponte Vecchio, c'è un cartello che indica l'interruzione della ciclabile dopo 400 metri. Cartello sbiadito al punto il cui scolorimento misura il tempo di durata dell'interruzione. Dopo 400 metri bisogna deviare in via Spoleto per poi pedalare su via Milano e strade limitrofe. Idem da via Gradara, interruzione abbozzata con una transenna che non chiude il varco. Se lo si supera, si arriva alla chiusura e si deve fare retromarcia. E da domani, 6 luglio, nelle Marche cominciano i saldi estivi e le merci quindi saranno acquistabili ad un prezzo scontato fino alle primo di settembre. Quasi due mesi di vendite promozionali che rappresentano uno sonodo importante per i commercianti, così come per gli acquirenti. Secondo CNA si stima una spesa media di 130 euro a consumatore. E nelle settimane dei saldi alla parte da Leone la fanno sicuramente i capi di abbigliamento. Quello però della moda marchigiana, uno dei settori produttivi che vivono una più profonda crisi. Tant'è che oggi i rappresentanti di categorie si sono incontrati in regione con il governatore Acquarori e l'assessore Antonini per affrontare un tavolo tecnico sulle criticità di un comparto d'eccellenza che nell'ultimo anno ha registrato un calo di esportazioni superiore alle 6%. Ed ora cambiamo argomento perché 300 calzatori amatoriali sono in arrivo a Pesaro e a Fano che si uniscono per ospitare le finali nazionali di calzo A7 CSI. Per noi è un orgoglio, l'abbiamo voluto fortemente perché siamo entrati nell'ottantesimo di fondazione del comitato provinciale Pesaro Urbino. L'abbiamo voluto fortemente a Pesaro in primis perché comunque con l'amministrazione comunale di Pesaro che ringrazio pubblicamente abbiamo iniziato ormai da 3-4 anni una collaborazione ma abbiamo voluto svilupparlo anche su Fano perché è la storia dove siamo nati nel lontano 44. Tutto il campionato regionale hanno partecipato 300 atleti per un totale di 17 squadre e poi al campionato nazionale ovviamente per la regione Marche se ne sono qualificate due che sono le nostre portabandiera, una di Fano e l'altra del comitato di Macerata. Siamo molto contenti, aspettiamo di vederli all'opera perché abbiamo grande aspettative sul fatto che possano portare a casa la competizione giocata in casa perché come diceva il Presidente Pagnetti è la prima volta che organizziamo questa manifestazione siamo orgogliosi e quindi non vediamo l'ora di iniziare. È un evento importante che riospitiamo con orgoglio perché già nel 2010 Pesaro aveva ospitato le finali nazionali quest'anno grazie al CSI provinciale e regionale abbiamo l'opportunità di riabbracciare questo grande evento che vede tanti giovani competere per quello che è un loro sport nel quale noi crediamo molto. E dopo il successo di The Life e di Marina Abramovic il Centro Arti Visive Pescheria inaugurerà domani una nuova mostra in cui l'arte si fonda con le neuroscienze e l'intelligenza artificiale si chiama Nelle Regole della Bellezza. Vediamo. Il Centro Arti Visive Pescheria ha scelto di lavorare con un collettivo di artisti numero cromatico che da molti anni si sta attivando e sta sviluppando tutta una serie di opere in cui le nuove tecnologie diventano un elemento integrante. In questo caso è centrale l'utilizzo delle intelligenze artificiali infatti il numero cromatico ne ha istruite ben tre che sono al centro proprio di questa mostra il cui titolo stesso è un prodotto dell'intelligenza artificiale nelle regole della bellezza. Cerchiamo non solo di produrre delle opere d'arte, delle mostre ma anche di lavorare su un approccio integrato con discipline scientifiche quindi per esempio studiamo che cosa succede al pubblico quando si trova all'interno di un'opera d'arte nell'incontro con un'opera d'arte. Abbiamo realizzato due grandi installazioni per lo spazio della pescheria uno per il loggiato e l'altro per la chiesa del suffraggio una è un'installazione, un percorso installativo fisico nel senso che ci sono diversi materiali anche arricchiti che avvicinano allo spettatore, tappeti, tende, vento e nella chiesa del suffraggio invece è un'installazione multimediale un'installazione che è fatta per far fermare il pubblico e vivere un momento introspettivo. Nel loggiato vediamo una idea di realizzazione di una grande vela con un mare sotto che è composto di parole, di segni, di pittografie, di poesie che sono state ottenute attraverso l'uso di tecniche artigianali con questa sovrapposizione delle nuove tecnologie con gli antichi saperi con gli antichi mestieri. Lo spazio dodecaonale della chiesa del suffraggio invece è una grande installazione dove le parole diventano davvero la raffigurazione di un mare che rappresenta la rete la rete del web, la rete delle connessioni delle connessioni interspaziali dove le parole formano frasi che si avvicinano e si allontanano si sovrappongono e di nuovo mettono a prova la possibilità di percezione tant'è che in questa stanza sono stati creati dei grandi cuscini per l'invito proprio a sostare, a vivere all'interno di questo spazio pieno di immagini e di suoni che vengono da un white noise che appunto ci aiutano a deconnetterci per una nuova percezione dello spazio e delle cose. E dalle 7 alle 14 luglio presso l'ex palazzo comunale di Fiorenzola di Focara le associazioni Scultura, Focara per Dante e le quartiere San Bartolo daranno il via a e quindi uscimmo a rivedere le stelle una kermesse di pittura, scultura, letture e conferenze in omaggio a Dante di Ieri la collaborazione tra queste realtà poprorà una mostra sui personaggi più significativi e noti della Divina Commedia ad opera di artisti accompagnati ogni sera da attività di divulgazione culturale e di letture dantesche. E domani 6 luglio alle ore 21.15 prosegue nelle cortile della Rocca Malatestiana di Fano il Sinfoni Pop Festival dell'Orchestra Sinfonica Rossini. La serata sarà dedicata ad una doppia festa perché da un lato il concerto si inserisce nel lungo elenco di iniziative dedicate al centesimo anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini mentre dall'alto verrà riconsegnato il premio Tiberini d'Oro 2024 proprio alla Sinfonica Rossini. Nelle concerto l'orchestra sarà diretta da Corrado Valvo sulle palco le voci delle tenore Giuseppe Infantino e delle soprano Vardui Cacciarian. E c'è un'altra rassegna musicale in questo 2024 di Pesaro Capitale della Cultura che raggiunge un anniversario speciale. Parliamo del festival organico Vespri d'Orgona Cristore che taglia il traguardo della sua ventesima edizione e si allarga oltre i confini della città di Pesaro. È un grande traguardo di cui siamo molto orgogliosi sia perché coincide appunto con Pesaro 2024 quindi un'occasione unica per Pesaro come città della cultura sia perché coincide con il nostro ventesimo anniversario. Ma per darvi un'idea dei numeri delle passate 19 edizioni vi dico soltanto che il festival ha prodotto circa 170 concerti dando voce circa a 336 artisti provenienti da tutto il mondo quindi si è fatto davvero un promotore culturale e un promotore della valorizzazione degli strumenti, degli organi perché appunto è un festival organistico e delle chiese che però li contengono perché una delle nostre cifre stilistiche è proprio il fatto di volere fare concerti la cui musica sia sempre in sintonia con l'architettura della chiesa e con gli organi che vengono utilizzati. I musicisti delle passate edizioni provengono di fatto da tutto il mondo da più di 20 paesi e da quasi tutti i continenti. L'odierna edizione è improntata a uno sguardo anche a comuni diversi da Pesaro per cui l'associazione ha pensato bene di estendere questa iniziativa alla partecipazione dei comuni di Montelabate, di Montbaroccio e quel che è più importante Urbino. Per quello che riguarda Pesaro invece gli eventi centrali sono quelli della chiesa di Cristo Re da cui prende il nome proprio il festival grazie ad un organo splendido che era l'organo costruito per un'esposizione internazionale a Milano nel 1906 e qui abbiamo l'inaugurazione con l'ensemble Chroma formato da Lucia Ferrati che leggerà dei percorsi di lettura con l'organo a quattro mani e qua mi metto in prima linea io e mio marito con il quale perché non potevamo che fare così per la ventesima edizione e con un concerto che farà un tappeto sonoro ma anche un accompagnamento molto pertinente alle letture scelte da Lucia Ferrati. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti in onda questa sera sullo Sine TV a partire subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale La Natura della Cultura Magazine La puntata di questa sera riguarderà la presentazione di 50x50 capitali al quadrato dove la prossima settimana vedrà protagonista il comune di Terre Roveresche E questa sera Estate Capitale il nostro programma dedicato all'estate di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura come tutti i venerdì alle ore 21.20 con le repliche che vedete in grafica questa puntata ci parlerà della città delle famiglie felici E vi ricordo il nostro appuntamento delle sabato mattina con la rassegna stampa in diretta a partire dalle ore 7.20 in diretta anche sul nostro sito, sulla app e sulla nostra pagina Facebook domani mattina a condurre la rassegna ci sarà il nostro Antonio Astuti Ed è davvero tutto e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon fine settimana e una buona serata